Questi sono occhiali che distribuiamo noi come Tubertini, si chiamano high level, sono degli occhiali polarizzati, abbiamo circa 25 modelli con varie tipologie di lenti, tutte però polarizzate. Ecco la particolarità degli occhiali high level, cos'è? Hanno una polarizzazione veramente ottima, una polarizzazione ottima fa sì che noi vediamo benissimo sia in presenza di sole sia quando è nuvolosa ad esempio, cosa fondamentale, un occhiale scadente dobbiamo mettercelo e togliercelo a secondo della luminosità che c'è e quando stiamo una giornata a guardare un'antenna di un galleggiante e tarata perfettamente o un cimino dalla barca con il riflesso dell'acqua si tende a stringere gli occhi e stare sempre in tensione. Io dico a volte quando c'è il sole avete visto che torna a casa sembro coscesse, l'indiano ho le righe bianche perché si tende a chiudere gli occhi per mettere più a fuoco perché c'è la luce che disturba. Ecco un paio di occhiali polarizzati è quello che secondo me qualsiasi pescatore deve avere nel suo bagaglio di attrezzatura.